Parere favorevole di Commissione-Governo e di tutti i relatori di minoranze. Aperta la votazione. PILOZZI, PALMA, TRIPIEDI. Ci siamo ora? Sì, è chiusa la votazione. La Camera approva. PILOZZI, PALMA. Non lo votiamo, lo votiamo successivamente. 1.3, Russo, parere contrario di Commissione-Governo e dei relatori di minoranza. 32, scusate, ho letto male. E' aperta la votazione. Murer, Dall'Osso, Latronico, Bolognesi, Latronico. Murer e Vico. Ok. E' chiusa la votazione. La Camera respinge.